Ciao, ciao, siediti, siediti, come stai? Bene, ti trovo, ti trovo bene? Da quanto tempo sei tornato? Alla fine di agosto, stai bene? Grazie. Guarda, scusami, però io non posso rimanere tanto perché ho un impegno con la scuola, il club dello spettacolo. Facciamo i cento clown, lo conosci? No. Vabbè, comunque stiamo diventando matti per metterli in piedi. Io sono anche segretaria. Oh, non fare complimenti se vuoi andare io. No, no, qualche minuto. No, in realtà volevo vederti, solo che non sapevo bene cosa aspettarmi, mi sei sembrato un po' strano al telefono. Beh, sì, in effetti è stato un periodo un po' così, però, vedi, adesso ho ripreso la scuola e sto andando anche in una scuola di nuoto. Nuoto? Sì. È fantastico, Corrod, è meraviglioso. Sì, vedi, non fanno gare quest'anno, quindi penso che starò anche in panchina. Ma che dici? Avrai successo. Scommetto che tu saranno fieri di te. Eh, sì. Cosa vi posso portare? Eh, non so, voglio qualcosa da mangiare. Voglio solo una coca. Ok, due coca per cortesia. Grazie. Credi ci sia rimasto male? Ho fatto qualcosa di strano, io non lo so. No, no, no. No, anche in questo periodo è un po' tutto grigio, per cui... Ma tu ci pensi mai? Oh, no. Karen, sei... sei bellissima. Io... Anche tu. Tu ci pensi mai? A che cosa? All'ospedale. No. Grazie. Grazie. Voglio dire, non ti mancano gli scherzi stupiti? Vai da un dottore? Sì, tu? Mi hanno dato il numero, ma... All'inizio ci sono anche andata, solo che... Non lo so, sarà stata colpa mia. Continuavo a ripetermi cose che già sapevo. E alla fine mi sono convinta di potermi aiutare solo da sola. Anche mio padre me lo dice. Però voglio dire, questo non c'entra con te. Se è quello che senti di fare, è giusto che tu lo faccia. Beh, sì, in effetti mi ci hanno costretto, quindi le cose stanno così per adesso. Ti sei fatto crescere i capelli? Oh. Eh, sì. Devo andare da un barbiere. No, ti do no. Grazie. Dico sul serio, non ti manca. No. Il mondo reale è questo. Già, forse è così. Sì. Io, mi dispiace, ma devo proprio andare... Ho un impegno con la scuola, il club dello spettacolo. Quest'anno facciamo... Sì, sì, già me l'hai detto. Ah, sì? Sì. Ok, è meglio che vada, non voglio fare tardi. Però facciamo una cosa. Facciamo un bel Natale. Facciamo un grande anno, ok? Sì. Che questo sia il migliore anno della nostra vita. Vabbè. Noi possiamo farlo. Sì. Sì. Mi chiami? Certo. Davvero? Sì. Ok. Ok. Ti trovo bene. Davvero. Grazie. Ciao. Ciao. Ehi! Metticela tutta! Sì.